La Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria è un'associazione che ha come compito fondamentale quello di svolgere attività inerenti, lo sviluppo, ampliamento e diffusione del know-how, delle conoscenze e delle esperienze tipiche della pasticceria, internazionalmente intesa come arte dolciaria al fine di valorizzare la cultura dolciaria dei vari paesi del mondo. Svolge inoltre attività rivolte alla valorizzazione dell'attività dei pasticceri, gelatieri, cioccolatieri, scultori e artisti allo scopo di garantirne la difesa dei valori sociali, morali, professionali ed anche per migliorare il prestigio e l'immagine di tutta la categoria. L'associazione ha come scopo la formazione professionale, l'organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni, la promozione e lo sviluppo del comparto artigianale tipico di ogni nazione. La federazione inoltre ha lo scopo di creare sinergie tra le aziende, i grossisti, le scuole e i professionisti. Offre inoltre per gli associati numerosi servizi e convenzioni con le aziende del settore, corsi di pasticceria, la giacca ufficiale e una serie di gadget tra cui la targa ufficiale e tanto altro ancora. La federazione internazionale pasticceria, gelateria, cioccolateria gestisce ed organizza i due campionati del mondo, the World Trophy of Pastry, Ice Cream and Chocolate e Cake Design World Championship presso Ost Fiera Milano, a cui partecipano le squadre che hanno superato le selezioni nei cinque continenti.